Grazie a tutti non pensavo è una buona tattica buona sapienza mica tre volte a questa donna veramente mistero è fatto io voglio rispettare non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace sono una disprezione non mi piace se non mi piace è il proprio Questa è un'altra cosa. Grazie.